Oggi è 15 luglio, lunediciotto. Voglio parlare di un fatto che si verificherà domani. Infatti domani Olga De Sousa compie 50 anni. Eh, ricordate Olga De Sousa? È una cantante brasiliana. È nata a Rio de Janeiro, il 16 luglio 1968, ovviamente. Ecco, qui davanti a me c'è un articolo di Wikipedia. E ora vi faccio vedere l'articolo. Ecco, questo articolo è in spagnolo. Stranamente non ho trovato niente in portoghese né in italiano. Olga De Sousa è abbastanza conosciuta anche in Italia. Infatti qua la voce artistas relacionados c'è scritto Corona. È un gruppo italiano. Eh, infatti, Corona è su un gruppo italiano The Hour Dance, liderato per la cantante brasilegna Olga Maria De Sousa. Ma perché qua c'è scritto brasilegna e qua c'è scritto brasilera? Sono sinonimi? Non lo so. Vabbè, andiamo avanti. Ah, questo è il sito ufficiale del gruppo Corona. Poi, che altro? Beh, non so molto su Olga De Sousa. Però, comunque, ci tenevo a fare questo video. Insomma, cioè, domani Olga De Sousa compie 50 anni e per me è un fatto importante. Eh, ogni volta che sento parlare di Olga De Sousa mi è in mente La Playa del Sol. Eh, no, non parlo della canzone di Estrella. Parlo di un'altra canzone. La Playa del Sol... Vabbè, poi metterò il collegamento nella descrizione del video. Vediamo un po' gli album che ha fatto. Eh, qua risultano cinque album. Ah, The Rhythm of the Night. Eh, vi ricordate? E poi ci sono album a me sconosciuti. Eh, infatti, Olga De Sousa ha fatto varie canzoni in inglese. Poi, ovviamente, ha cantato in spagnolo perché, insomma, la parola del Sol è in spagnolo ovviamente poi non so se ha cantato in portoghese ma probabilmente si resta capito ha fatto canzoni in italiano comunque vabbè voglio fare gli auguri a Olga De Sousa Buon compleanno Feliz cumpleannios Feliz anniversario Bonan Naskijtagon penso che eri detto le cose più importanti quindi ero qua grazie per l'attenzione Duncan pro la attento